Musica Rovella, grossi in mezzo, colpo di testa a rete! Il pareggio del Genoa, il gol realizzato dai Rosso-Blu che trovano l'1-1 con il 2-2 con Vasquez 2-2, il gol di Vasquez a un minuto, meno di un minuto dal termine arriva il pareggio con Vasquez che telefona a casa e dedica il gol Rivediamo tutto mentre stiamo ascoltando il ruggito di Marassi Buca, Vasquez prende il tempo a tutti quanti soprattutto a Ferrari e a Chiricet perché gli salta in mezzo insegna il gol dell'importantissimo 2-2 della Genoa Eccola la capocciata di Johan Felipe Vázquez Ibarra Eccola la capocciata di